...verdi ma non troppo, con striature bianche ma non spesse, curve ma al punto giusto e di lunghezze uniformi ed eleganti. L'eleganza della zucchina, signori! Chi non ci ha pensato, eh? Bene, sarà vero o sarà falso? A voi il voto, sulle mani! Bene, bene, molto bene. Adesso serve un momento di attesa per l'elaborazione dei dati. Che avverrà tramite sofisticati sistemi informatici.